La Polizia Penitenziaria di Enna, in collaborazione con il Nucleo Investigativo Regionale della Polizia Penitenziaria, ha tratto in arresto il cappellano del carcere di Enna. Si tratta di Rosario Buccheri, sacerdote che appartiene alla diocesi di Piazza Armerina, che avrebbe ceduto droga a un detenuto nell'istituto penitenziario. La Polizia, inoltre, ha effettuato a casa del sacerdote una perquisizione, dove sarebbero state trovate armi e denaro in contanti. Negli scorsi mesi, come riporta l'Agenzia Anza, la Polizia Penitenziaria di Enna aveva avviato un'indagine dopo aver trovato droga durante i controlli dei detenuti. Gli inquirenti continuano ad indagare per fare ulteriore luce sulla vicenda.